ciao in questi video vi affronteremo i primi passi da fare per una ristrutturazione i primi passi sono forse quelli più importanti quelli che vi aiutano a impostare il lavoro dall'inizio per poi arrivare al risultato ottimale ho identificato in questi primi passi da fare alcuni temi la scelta della casa la scelta dell'impresa e dell'architetto e una lista dei desideri da fare la scelta della casa penso che sia uno degli elementi forse più importanti se l'avete già fortunati voi e dovete solamente come consiglio imparare a guardare la casa con occhi diversi imparate a distaccarvi un po' dalla quotidianità dall'uso che ne fate perché mi capita spesso anche nei miei sopralluoghi la prima idea non è mai magari quella ottimale per cui davvero cercate di staccarvi un po' da quelle che sono le consuetudine come vedete le cose in modo tale da capire cosa cambiare da definire dove e come dovete intervenire per chi deve acquistarla penso che sia il primo passo è l'investimento più oneroso davvero della vostra esistenza probabilmente e dobbiamo imparare a valutare bene la casa da acquistare mi capita sempre più spesso di dare dei consigli e dei suggerimenti diciamo per come ai clienti per potenziali clienti per l'acquisto della casa valutare le condizioni valutare le potenzialità che ha un appartamento una casa valutare le caratteristiche la luminosità le esposizioni non sto dicendo caratteristiche prettamente immobiliari localizzazione all'interno della città o di un paese ma sto dicendo soprattutto locali caratteristiche dell'appartamento in se stesso ci sono anche potenzialità di cambiamenti non guardate lo stato di fatto ci sono case vecchie che possono essere considerate diciamo molto messe male e sono messe male ci sono case che sembrano nuove ma che poi portano a fare una serie di interventi comunque importanti per cui non fermatevi alle condizioni ma cercate di capire davvero cosa può essere e come si può trasformare vi consiglio anche in questo caso di magari farvi supportare da qualcuno un professionista un progettista potrebbe essere utile per farvi una valutazione qualitativa della casa una valutazione di capire in che modo diciamo poter intervenire quali sono i primi i primi sentori per capire anche e per conoscere iniziare a conoscere il professionista che magari vi accompagnerà durante la ristrutturazione non chiedete subito il costo della ristrutturazione appena vedete una casa lo so che è una delle domande principali e che andrete a fare però come affronteremo nel capitolo del budget dei costi non è una risposta che si può dare il primo di primo diciamo acchitto attenzione a quello che comprate molte volte e capita sempre più spesso ultimamente dalla diciamo dalla questione dei super bonus e dei bonus edilizi di affrontare il tema della conformità urbanistica e catastale andiamo subito ad argomenti un po' pesanti la conformità urbanistica è quella che vi dice la lo stato di fatto dell'appartamento della casa che acquistate per quanto riguarda le pratiche in comune diciamo l'ente di riferimento è il comune è lì che si sono pagati gli oneri per costruire la casa è lì che si sono presentate le pratiche edilizie degli interventi che la casa ha diciamo subito nel corso degli anni la conformità catastale invece è una diciamo una conformità del di quello che è la planimetria e i valori catastali dell'immobile sono due enti separati la cosa più importante è la conformità urbanistica perché quella che si ha bisogno di pratiche ed ha bisogno di soluzioni diciamo di definizione di definire soluzioni molte volte negli atti si allega solamente la planimetria catastale e uno pensa che sistemata quella si è a posto tutto attenzione perché non è sempre così vi consiglio a riguardo di consultare la guida al notariato che troverete sul sito dell'associazione dei notari italiani in modo che da darvi dei consigli di massima riguardo ai controlli e alle diciamo prescrizioni più importanti che dovete affrontare nell'arco dell'acquisto della casa per cui attenzione alla stato di fatto della casa attenzione a vedere quelli che sono la conformità davvero della planimetria presentata in comune della planimetria catastale e attenzione perché questo deve essere diciamo se acquistato un appartamento una casa deve essere in ordine prima del vostro acquisto perché la responsabilità poi è anche vostra un altro passo importante da fare all'inizio è quello della scelta dell'impresa e dell'architetto ho segnato per chi ha già un'impresa capita molto spesso nelle situazioni di paesi o di città medio piccole che uno parta e che un cliente parta dall'impresa dalla scelta dell'impresa per consuetudine per conoscenza per una serie di ragioni anche se penso che non sia il percorso più corretto da un punto di vista di processo edilizio è capitato capita e capita spesso ma la cosa che vi consiglio di fare è di chiedere un preventivo difidate dai preventivi senza sopralluogo difidate dai preventivi generici cercate di dichiarire subito cosa dovete andare a fare e questo è importante perché molte volte questi preventivi fatti da imprese diciamo consultati direttamente sono a corpo sono generici demolizioni 2000 euro ma in quelle demolizioni cosa c'è è quello che intendo io o quello che ho fatto percepire all'impresa per cui da qui possono nascere determinate situazioni spiacevoli per cui preventivo con sopralluogo una descrizione minima delle opere che andrete a fare e meno voci generiche ci sono meno fraintendimenti possono nascere durante il percorso quante imprese o quanti artigiani possono entrare nel processo edilizio avete due scelte o un'impresa che non è detto che sia un general contratto però un'impresa edile che abbia le sue manovalanze o le sue imprese di subappalto per esempio gli impiantisti a cui si appoggia e allora riuscirà a coordinare anche i lavori a lavorare insieme alle persone con cui abituati a lavorare oppure una scelta che è un po più diciamo svantaggiosa in termini di tempo e di risorse da impiegare che quella di spezzettare le lavorazioni potrebbe essere più economico da un punto di vista monetario diciamo da un punto di vista più vantaggioso a un punto di vista economico ma di sicuro è più svantaggioso da un punto di vista di impegno che dovete mettere di coordinamento dei lavori perché molte volte vi capiterà che magari non si parlino le imprese coinvolte e dovrete farlo voi vi assicuro che la cosa non è semplice da gestire non è semplice per un addetto ai lavori e non lo semplice neanche per uno una persona di una coppia che si approccia alla ristrutturazione per cui nella scelta delle imprese attenzione ai general contractor con prezzi bassi qualcosa si deve nascondere non vi proporranno cose che gli altri non possono fare allo stesso prezzo a un prezzo minore attenzione a delle imprese che siano non in regola è fondamentale questo perché voi siete i primi responsabili del processo di inizio perché voi siete i committenti e davvero vi troverete più problemi che soluzioni per cui se succede qualcosa durante i lavori se succede qualcosa anche nel corso dell'esecuzione o nel risultato finale avrete meno leve nei confronti dell'impresa per cui no a imprese non regolari e chiedete almeno come vedremo nella parte documentale i documenti e le informazioni minime che in quanto committenti dovete pretendere dall'impresa chi si affida all'impresa pensa che ci siano dei vantaggi il primo rapporto diretto con l'interlocutore con chi esegue le opere una minimizzazione di costi questo è un po un un argomento che è dibattuto nel senso che secondo me nel momento in cui pensate di evitare determinati costi comunque il costo per esempio la pratica che l'impresa deve far fare viene esposto in qualche modo per cui non è tutto regalato per cui attenzione a questo che potrebbe essere un vantaggio ma che si può trasformare in uno svantaggio attenzione ai contenziosi se vi affidate direttamente all'impresa non c'è una terza persona direzione lavori che vi può fare e difendere nell'arco di eventuali contenziosi o eventuali contestazioni dei lavori attenzione perché c'è una limitazione della creatività il percorso il processo dovete seguirlo da voi dovete seguirlo e diciamo tutto voi per cui c'è una minore scelta una possibilità minore di scegliere e di fare diciamo i vostri interessi i lavori sono consentiti ho lasciato un punto di domanda perché molte volte in cui ci si affida l'impresa molte volte vengono fatti dei lavori che come vedremo non vengono poi i lavori dichiarati in termini di pratiche edilizie per cui il consiglio è chiedere preventivi anche a più imprese ovviamente i preventivi devono essere equiparabili devono avere un computo che come vedremo è la base di riferimento per comparare le scelte non state comprando un oggetto che sapete che è lo stesso sia in un preventivo sia in un altro firmare sempre un contratto di appalto diciamo lo verificheremo punto per punto cosa vuol dire dove vengono specificati date luoghi costi modalità di pagamento visitare eventualmente cantieri già realizzati dall'impresa o cantieri in corso in modo tale da capire come lavorano e per chi lavorano cosa fanno ho segnato un piccolo alert sullo sconto in fattura è una cosa che ormai starà calando sempre di più del tempo ma attenzione a quelli che propongono a coloro che propongono gli sconti in fattura promottendovi dei costi tagliati di tanto perché se una cosa costa 100 e voi detraete 50 con lo sconto in fattura non vi costa 50 ma vi costa 70 80 per cui attenzione a questa differenza in questa sezione vedremo i professionisti che rientrano nel processo di lizio ovviamente tutto deve essere scalato e proporzionato al vostro genere di intervento assegnato il progettista architetto geometra ingegnere l'impresa che potrebbero essere i coordinatori generali ma nell'esecuzione dei lavori che voi facciate o rifacciate un bagno che voi rifacciate tutto l'appartamento la casa in grande probabilmente entreranno tutte queste professionalità dall'impresa generale al posatori all'elettricista all'idraulico al seramentista al falegname al fabbro al tinteggiatore per cui davvero il percorso edilizio anche ripeto per interventi medio piccoli probabilmente coinvolgerà una serie di persone è per quello che dicevo prima nella scelta delle imprese una o più imprese davvero se rifate un bagno probabilmente vi entreranno impresa posatore elettricista idraulico pittore e forse il falegname per cui vedete che le persone coinvolte sono comunque tante a seconda della casistica dell'intervento che andrete a fare ci possono essere più o meno professionisti se andate a fare interventi strutturali ci servirà un progettista che si interesserà degli elementi strutturali se andrete a fare un intervento che andrà a rifare l'impianto di riscaldamento o andrà a toccare gli isolamenti termici avrete bisogno del progettista termotecnico o comunque il progettista o l'architetto generale dovrebbe coordinare tutte queste figure è ovvio di non spezzettare troppo anche in questo caso ma coordinare al progettista iniziale le figure professionali che vengono coinvolte nel processo ora affronteremo il tema della scelta dell'architetto come fare a sceglierlo innanzitutto attraverso magari il passaparola attraverso esperienze di qualcuno che ha già conosciuto il progettista attraverso anche incontri preliminari che hanno un costo nullo ma che vi possono aiutare a creare e a capire come lavora il progettista che avete di fronte il solito consiglio di fare sempre un sopra luogo congiunto per incominciare a vedere se possibile l'appartamento la casa e per incominciare davvero a conoscerci avere un professionista che lavora per voi è sicuramente un vantaggio in termini di relazioni con l'impresa in termini di scelte non è detto che sia un costo la scelta dell'architetto potrebbe portarvi anche a delle scelte che possono portare a un risparmio in determinate situazioni vi faccio l'esempio di una porta per voi battente o scorrevole potrebbe essere la stessa cosa invece pensate che ballano qualche centinaia di euro tra una scelta e l'altra per cui davvero può portarvi a delle scelte ponderate su determinate cose anche in ottica del costo che vi può dare una determinate scelte una soluzione o un'altra il vantaggio di avere un professionista che vi accompagni è anche quello di avere un controllo normativo nel senso che far le cose come devono essere fatte da un punto di vista delle norme che andremo ad affrontare un vantaggio potrebbe essere quello di avere supporto idee consigli costanti e disinteressati non solo per chi realizza l'opera ma davvero per il vostro obiettivo finale non scegliete un architetto in base solamente al preventivo non fatevi mandare preventivi solamente via mail cercate di instaurare davvero un minimo rapporto perché questo serve è capitato anche a me molte volte quando mando preventivi via mail non vengono neanche presi in considerazione quando incontro le persone e ci si capisce su quello che è la vostra esigenza si può anche tarare davvero quello che è il costo dell'architetto per cui definirne il ruolo definirne cosa deve fare cosa volete che faccia banalmente inutile nascondersi solamente la pratica edilizia seguirvi passo passo avere una consulenza spot durante l'intervento possono essere semplicemente delle configurazioni che voi dovete fare e creare con il progettista per cui informatevi parlatene le recensioni tutto quello che trovate è sempre buono è sempre una informazione utile attenzione sempre nella scelta e nella ponderalità delle cose nel senso che devi fare delle delle scelte che possono essere un po disinteressate e di tarare anche le recensioni quello che viene viene dato da quello che cercherete sulla rete o cercherete da altre persone molte volte viene segnalato che non si crea un rapporto corretto tra cliente e progettista capirà i miei gusti capirà quello che voglio ho fatto determinati incontri e poi siamo punto a capo e allora quello davvero il consiglio è non avete sposato nessuno se capite all'inizio del processo che questo non va bene come in tante cose anche come nella scelta di imprese cercate di interrompere subito e non portatevi il problema fino alla fine per cui questo non è davvero una cosa che siete legati a vita ma cercate di intraprendere di capire subito se c'è feeling se c'è un rapporto che si può creare non progettiamo seconda il nostro stile almeno personalmente nel senso che non ho uno stile molte volte le persone ti cercano in base a uno stile ma molte volte arrivano anche se non hanno un'idea precisa dello stile da seguire per cui molte volte l'architetto progetta diciamo in determinate maniere ma siete voi a dare gli input secondo me siete voi a dire a me piace una cosa a me piace l'altra e poi l'architetto vi consiglierà sugli errori da non fare sulle scelte che non stanno bene insieme sulle scelte che vi potreste pentire di fare e nell'arco di breve tempo per cui davvero questo deve essere un rapporto che non è da considerare solamente come un costo aggiuntivo potrebbe essere davvero un rapporto che vi porta a fare delle scelte corrette quando vi dicevo che non avete sposato nessuno è perché magari davvero capita che molte volte si capisce che non si crea il feeling iniziale per cui davvero cercate di non portarvi la cosa perché vi potrebbe portare davvero più stress più ansia e più diciamo meno riuscita di quello che è il vostro risultato iniziale ora nell'ultimo nell'ultimo paragrafo di questo video vi voglio definire quello che secondo me è una cosa fondamentale vi voglio consigliare una cosa fondamentale una lista dei desideri desiderata una lista delle cose che vorreste fare vi dico subito gerarchizzare le scelte definire le vostre priorità è una cosa fondamentale cosa vuol dire una lista di desideri molte volte capita cucina aperta cucina chiusa pasca bagno si passa da queste informazioni di base dove voglio mettere la lavatrice quanti bagni voglio fare quante cose quante spazio mi serve voglio uno spazio per uno studio voglio uno spazio per una determinata attività che svolgo allora queste diventano le cose fondamentali fatevene una lista ogni tanto riguardatela ogni tanto riguardatela o con l'impresa o professionista che andrete con cui andrete a fare la ristrutturazione però cercate di metterla per con una gerarchia delle vostre valenze e delle vostre priorità è importantissimo questo non tutte le cose sono realizzabili ve lo dico subito non voglio essere pessimista ma per spazi molte volte non ci stanno tutte le cose che vogliamo fare e vogliamo realizzare vogliamo mettere all'interno della nostra casa o per tempi o per costi molte volte perché davvero ci rendiamo conto o non ci rendiamo conto all'inizio di quanto possa costare una cosa rispetto un'altra oppure per delle scelte che davvero possono essere diverse per cui non dobbiamo fossilizzare questa lista dobbiamo usarla come uno strumento di lavoro fondamentale durante il processo è importante fare all'inizio per capire quali sono i vostri desideri da trasmettere all'architetto o dal progettista o dall'impresa ma nel mentre bisogna sempre tenerla in considerazione che questa lista può essere modificata per cui la gerarchia delle scelte è importante cosa sono le vostre scelte fondamentali molte volte mi viene detto io per forza devo avere una vasca poi quando ci si ragiona quanto è l'utilizzo davvero di una vasca durante l'anno poi vedrete che si torna indietro sulla scelta perché perché se la usate una o due volte l'anno vi dico andate le terme andate in una spa che sicuramente avrete più risultati rispetto alla vostra vasca che avete messo che magari vi possa sembrare una scelta iniziale giusta e poi vi può portare diciamo degli pentimenti nelle vostre scelte bisogna essere per cui flessibili in questa lista bisogna essere davvero bisogna cercare di capire quali sono le cose a cui non ci si può rinunciare ma ma davvero affrontare ogni discorso con una mentalità aperta nel prossimo video affronteremo il tema dei regolamenti e delle norme grazie a tutti grazie a tutti